Musica Bentornato Cudlier Proviamo a vedere se siamo capaci di diventare registi Infatti parliamo oggi di webcam Ti sei mai visto in un video? Ma non in televisione, su un monito di un pc Come puoi fare? Con una telecamera o meglio, visto che siamo internauti Una webcam In altri termini, una telecamera progettata e creata per internet In tre passi, acquisti, installi e chiami O meglio, videochiami Quando l'ho scoperta, ed ancora di più quando l'ho usata la prima volta Ed ho visto il mio carissimo amico che saluto Fabio in Australia Ho sorriso ed esclamato È incredibile A me non piace fare pubblicità Ma a scopo formativo Calza proprio a pennello Uno spot televisivo di questo periodo Che stimola emozioni molto forti Almeno al sottoscritto Ha una durata di circa 50 secondi Guardatelo e poi ci sentiamo subito dopo Questo è il titolo del video Direttamente da una camera di ospedale Grazie a uno smartphone connesso ad internet Per far vedere il nipote A casa dei nonni collegati in videoconferenza con un pc Allora, se l'hai visto, che ne dici? Immaginati lontano da casa Hai voglia di rivedere i tuoi cari La tua famiglia Tua moglie Tua marito I tuoi figli Un amico, eccetera Ad un tratto ti viene in mente un'idea Sei davanti al tuo pc O sul divano letto O col portatile Telefoni a chi vuole vedere Gli dici Accendi il tuo computer Collegati ad internet Ed accetta la mia videochiamata Eccovi nel pieno splendore Alla vista dei rispettivi occhi Fantastico, non trovi? Beh, ad onor del vero oggi Siamo andati ancora più avanti Con i videofonini O con i cellulari dotati di fotocamera Ed accesso ad internet Ma rimaniamo nel nostro percorso didattico Che cos'è una webcam? È da considerarsi innanzitutto Un dispositivo di input per il computer Ossia in grado di fornire dati In entrata verso il pc I dati inviati sono di origine video E se la webcam è fornita di microfono Anche dati audio È costituita da un obiettivo Tipo fotocamera o videocamera Insallato in un involucro Sostenuto da un dispositivo meccanico Che permette di ubicarla Sopra la scrivania o sul monitor C'è però da aggiungere Che alcuni monitor Hanno direttamente una webcam integrata Come avviene nei notebook Come optional Potrai aver integrato anche un microfono Per acquisire la tua voce Durante un'audiochiamata O videochiamata Le forme della webcam Hanno uno standard Che richiama molto L'orbita oculare Ma nulla ti vede Per acquistarne una Che più ti gravifichi Che cosa devo controllare In caso di acquisto Le caratteristiche di definizione Principalmente Un po' come se acquistassi Una videocamera Andrai a valutare Le specifiche tecniche Del prezzo Quest'ultimo Può variare da poco poco A tanto tanto Per le specifiche Dovrai verificare Il valore numerico Della sensibilità alla luce Il cui parametro È espresso in lux Più è basso questo numero Migliore sarà La sensibilità Della webcam La risoluzione invece È riferibile ai pixel Qui entra in gioco Un bel discorso Non devi realizzare Il video Del tuo matrimonio O la nascita O battesimo O comunione Dei tuoi figli Devi semplicemente Trasmettere il tuo volto Qua e là Per il mondo Questo parametro Influisce Sulla tua connessione Ad internet Sulla banda Che hai acquistato Dal tuo provider Ossia Quanti megabit A secondo Gestisce la tua ADSL Se acquisti Quindi Una webcam Costosa Che ti offre Un video Di alta risoluzione Ma la tua Connessione Non riesce Ad inviare Un flusso dati Così elevato La persona Con la quale Sei collegato O collegata Vedrà Verosimilmente Un fermo Immagine Che saltuariamente Cambia Una serie Di due Istantanei Questo Nella migliore Delle ipotesi Detto questo Con una risoluzione Di 320x240 pixel Vai più che bene Per le tue videochiamate Altra cosa Da valutare È verificare La presenza O meno Di un microfono Per evitare Che sul più bello Appena realizzato Il collegamento Tu non riesca A farti ascoltare Dall'altro capo Del mondo Queste poche cose Credo Siano sufficienti E soprattutto Evitano Di impallarti Il cervello Nella scelta Ricorda Stiamo parlando Di una videochiamata E non Un video professionale Ma come la uso? Innanzitutto Dovrai installarla Il collegamento Al computer Generalmente Avviene tramite Un cavetto USB Inserendo il cd Allegato alla webcam Potrai avviare La procedura Di installazione Del driver E del programma Di gestione Anche se Quest'ultimo Non è determinante Per il suo funzionamento Una volta installata Le varie impostazioni Come il controllo Delle funzionalità Audio e video L'applicazione Degli effetti Video E settaggi vari Li potrai Senz'altro Eseguire Tramite il programma Di videoconferenza Che utilizzerai I più conosciuti Utilizzati Al mondo Ad oggi Sono Skype Forse il più conosciuto In assoluto Che ora è stato anche Acquisito Dalla Microsoft Messenger Programma della suite Windows Live Ancora della Microsoft Facebook Il più diffuso Social network Al mondo Oggi Che ha introdotto Da poco le videocamate E che penso Non sia il caso Nemmeno di aggiungere altro Google Plus Google Plus O Google Plus Il nuovo social network Di casa Google Il cui accesso Prevede però La necessità Di crearsi Un account Gratuito Gmail Che però In seguito Ti potrà Essere utile Per accedere A moltissimi servizi Quasi tutti Gratuiti Di Google Per casi particolari E professionali Esistono comunque Anche altre realtà A pagamento Che permettono Videoconferenze Con un numero Più o meno Cospicuo Di interlocutori Una volta installato Ed avviato Uno di questi programmi Potrai cercare Il destinatario Tramite l'opzione Relativa Questo Se non conosci Il nome utente Di accesso Della persona Al medesimo programma Di videoconferenza Altrimenti Sarà ancora più semplice Trovare la persona Sarà sufficiente Cliccare sul pulsante Di chiamata E dopo Qualche secondo Dando per scontato Che la persona All'altro capo Sia presente al computer Ed accetti la chiamata Ti comparirà L'immagine O il video Ripreso Dalla webcam Ma può avere Altri impieghi Certamente Sì In maniera Straordinaria Se non l'hai mai fatto Ti invito Mentre cammini per strada Ad alzare Gli occhi Verso l'alto Non ti sarà Difficile Notare Qualche Marchingegno Strano E di dubbia Funzione Appeso Lampioni Edifici Sostegni Semaforici Questi dispositivi Sono frequentemente Delle videocamere Di varia forma Che possono Venire usati Per videosorveglianza O scattare fotografie Di soggetti E situazioni particolari Utilizzabili Quindi In particolar modo Per la sicurezza O come deterrente Il loro flusso Il loro flusso di dati Viene registrato Continuamente Su un disco rigido Ubicato Anche lontano Dal luogo Di presenza Della videocamera I possibili Collegamenti Alla centrale Di ricezione Possono avvenire In maniera Cablata O wireless I dispositivi Possono essere Unici O facenti parte Di un ampio circuito Di videorilevamento In più punti I quali Convergeranno Poi Alla centralina Per la gestione Video Oggi Quindi È la portata Di moltissime persone Realizzare Un circuito Di videosorveglianza Dotata Di una O più Videocamere Ed il bello È che Se l'impianto È collegato Ad internet Potrai Tu stesso Monitorare A distanza Idealmente Illimitata L'ambiente Nel quale È installata Una videoconferenza Di sorveglianza In pratica E poi Non ci vogliamo mettere Anche i videotutorial Con videoriprese Del formatore Che può parlare Ad un vastissimo pubblico Dal vivo Vedi streaming O Registrato Da caricare Magari su YouTube Non ce lo mettiamo Questo? Bene Nella prossima lezione Conoscerai il dispositivo Che può completare Una videochiamata Le cuffie E il microfono Ora come al solito Un forte saluto Ciao a presto Da Carlo E alla prossima Tiziamo E alla prossima Tiziamo E alla prossima Tiziamo Grazie a tutti.